Da 40 anni nella meravigliosa città barocca di Noto, Assicurazioni Generali ti assicura il massimo della professionalità e della competenza, tante possibilità ed opzioni per assicurarti una vita più tranquilla e serena. Pensa di più a te stesso e alla tua famiglia. Vieni a trovarci in via Salvatore La Rosa 34 a Noto. Un consulente ti assisterà per consigliarti e stabilire insieme a te la soluzione migliore. Soluzioni per il risparmio, mediante un piano di versamenti in cui ciascun prodotto è concepito in base alla propensione al rischio del cliente, con la possibilità di ottenere particolari garanzie di rendimento e alle specifiche esigenze di garanzie assicurative senza alcun rischio per il tuo capitale. Puoi scegliere 175 special bonus, consente con un unico versamento di proteggere e far crescere nel tempo la possibilità di beneficiare dei maggiori rendimenti offerti dalle gestioni separate di assicurazioni generali. 175 special bonus permette di investire la propria liquidità per un importo compreso tra 2.000 e 50.000 euro caratterizzate ad oggi da rendimenti tra i più interessanti del mercato. Assicurazioni generali assicura la tua vita. Vieni da noi, perché siamo gli unici a garantire ciò che nessuno potrà mai garantirti. Assicurazioni generali, agenzia di noto, via Salvatore La Rosa 34, telefono 0931 573 200, fax 0931 573 201. Il nostro biglietto da visita, la professionalità, la disponibilità e la serietà.